Amici del canale, ben ritrovati! Oggi una ricetta per una pasta ripiena con melanzane, ricotta e ricotta salata. Semplice e alla portata di tutti! Come prima cosa tagliamo le melanzane a fette. Mettiamo le melanzane in una ciotola con il sale e lasciamo che rilascino la loro acqua per circa mezz'ora. Nel frattempo tritiamo finemente lo scalogno. Procediamo tritando i pomodorini. In una padella facciamo soffriggere scalogno e olio. Ed infine aggiungiamo i pomodorini. Sale e pepe. Forza la mezz'ora, procediamo stendendo le melanzane in una teglia da forno rivestita con carta da forno. Aggiungiamo un filo d'olio. Inforniamo a 230 gradi per circa 20 minuti. Aggiungiamo la ricotta, un pizzico di sale e uno di pepe. Grattugiamo la ricotta salata. In un mixer mettiamo le melanzane, aggiungiamo un filo d'olio e sugli amici. Uniamo le ricotte alle melanzane. Iniziamo a preparare la sfoglia rompendo le uova nella farina. Iniziamo a preparare la sfoglia rompendo le uova maggiore. Ricaviamo i quadrati dalla sfoglia. Cuociamo in acqua bollente salata.